Cosa stai facendo? Ovvio, no? Sono un maker, mi porto il metro per capire quanti anni ha una bottiglia di vino. Lo sapevi? No. Ti spiego, guarda. Questa qua di che anno è? Leggi? 2003. 2003. Allora, prendi il metro. Ok. Mi pare, eh. Lo allunghi, siamo nel 2023, quindi posso allungarlo fino a 123. Arrotondiamo, dai, perché non è un metro così lungo. Ok. Poi lo pieghi esattamente a metà e fai combaciare la parte metallica, quindi l'estremità, con il metro vero e proprio. Ok. Ora, girandolo, possiamo leggere tutti i numeri. Abbiamo detto che la bottiglia di vino è del 2003, quindi arriviamo a 103, che appunto abbiamo arrotondato, quindi la bottiglia ha esattamente 20 anni. No. Sì, giuro. È molto svolta. Eh. Ma sei sicuro? Sì, guarda, funziona anche con le tagini. Che anno sei? 1992. Allora, 92, beh, fallo tu stessa, eh. 92, a fianco cosa c'è scritto? 30, cioè 31, perché siamo nel 2023, quindi 31 anni. Confermi? È la svolta. È la svolta.